Gentili telespettatori, buona giornata. Arianna Meloni, la sorella della Meloni, si scaglia diciamo contro il gossip, contro le cattiverie. Dice quale sarà la prossima cattiveria? Guardi Arianna Meloni, funziona che quando una persona è in vista, visibile, la sorella di un capo di governo e poi sposata con un ministro, quindi la sorella del capo del governo, il marito è un ministro, la sua visibilità diventa al pari del marito o della Meloni. Anche lei diventa un VIP di riflesso, non so come la moglie di un attore famoso diventa anche lei famosa non perché abbia fatto chissà che cosa, ma solo per essere la moglie. Quindi Arianna Meloni non ha incarichi né di governo né di partito né di nulla, mi sembra che faccia la maestra, però ha una notorietà importante che viene dal riflesso dato dal marito e dalla sorella. E ovviamente si scatenano i gossipi, i pettegolezzi e anche le cattiverie. Su di lei vanno a scavare, a vedere, vanno a vedere come poter attaccare sia il marito che la sorella cercando e scavando nella vita di tutti i giorni. Le cattiverie, le cattiverie purtroppo fanno parte della notorietà. Quando sei una persona riconosciuta ti insultano, ti offendono, ti deridono per le caratteristiche fisiche, per come parli, hai sbagliato una virgola, hai dimenticato un accento, il congiuntivo, guarda lì, guarda là, come ti vesti, ti vesti come mio nonno. Ne senti di tutti i colori e qui parliamo poi dell'invidia social, che è una cosa, quindi chi è in vista ha l'invidia social, l'invidia sociale, che è diversa dall'invidia semplice, ma ha a che fare anche con le cattiverie dei vari giornali che per colpire la sorella non disdegnano di colpire anche lei. E così la sorella Arianna Meloni rompe il silenzio con il foglio per replicare alcuni pettegolezzi che hanno investito la sua famiglia. Lei dice ormai tra nomine gossip non ci facciamo mancare nulla e esprime al foglio tutta la sua irritazione per essere continuamente tirata in ballo, sia che si tratti di pettegolezzi che di scelte dei vertici delle società partecipate dallo Stato. L'ultima che le è stata attribuita è Giuseppina di Foggia, neo amministratrice delegata di Terna. Sì, spiega al quotidiano, ero stupita della lettura dei giornali, oddio, possibile che la conosca e non me ne ricordi? Così ho scritto a Giorgia, ma io la conosco la nuova amministratrice delegata di Terna? Mi ha risposto non lo so, penso di no. E schiva per carattere e per scelta, vista l'illustre apparente e l'Arianna non si sorprende più di essere tirata in mezzo. Penso che il veleno continuerà ancora contro di me e contro di noi. Basti pensare che cosa è successo. Recentemente quella storia di gossip che ha investito la deputata di Fratelli d'Italia Rachele Silvestri che due settimane fa si è sentita in dovere di scrivere una lettera al Corriere per porre fine alle calunnie che circolavano nelle chat, relativa all'insinuazione che il figlio non fosse stato concepito con il pompagno ma con un influente parlamentare di Fratelli d'Italia. Qualcuno ha fatto, seppur in modo indiretto e allusivo, il nome di Lollo. Lollo per gli amici, il cognato della Meloni, Lollo Brigida, che ha sposato la sorella, che è quindi lo sposo di Arianna Meloni. Dice qui la reazione è dura, sì anche queste abbiamo dovuto sopportare ma abbiamo le spalle larghe, peccato che nessun giornale abbia scritto in maniera chiara una cosa del genere, così saremmo andati in vacanza con i soldi dei risarcimenti delle querele. Anzi no, mi correggo, li avremmo devoluti tutti in beneficenza, molto meglio. Ma insomma, Arianna va avanti, si è fatta una risata quando ha sentito dire che aveva cacciato di casa il marito ministro. Va avanti fino alla prossima cattiveria. Quindi avevano insinuato questo dei giornali ma non in maniera esplicita per evitare delle querele, però altri giornali o gli stessi giornali in maniera sempre non esplicita avevano detto che lei l'aveva cacciato di casa. Alla fine, che siano vere o false queste storie sono storie private, ammesso che esistano, e sono storie che succedono a tutto il mondo. A tutto il mondo succedono queste cose qua, vere e false. E poi ci sono anche tante calunnie, ci sono tante diffamazioni, soprattutto quando ci sono persone in vista. Quindi verso le persone in vista ci sono tante calunnie per colpirle e a volte invece tanti vengono scoperti proprio perché i giornali ti stanno alle calcagna e quindi scoprono qualcosa che di solito non scoprirebbe nessuno perché indagano. Quindi sono cose private, eventualmente sono affari loro. Come dice Arianna Meloni, quale sarà la prossima e la prossima chissà. Per i prossimi cinque anni, cara Arianna Meloni, Lollo Brigida e Meloni, la cattiveria delle persone è sempre e comunque in agguato. Questo sempre e comunque perché c'è curiosità, morbosità, la gente vuole sapere dove vivi, vuole sapere che macchina hai, vuole sapere dove lavori, dove vai la domenica, come ti vesti, che orologio hai. Di solito la persona famosa, della persona famosa non interessa quello che sta facendo inerente al perché famosa, ma è più interessante chi è il fidanzato, che macchina ha. Alla gente interessa proprio il gossip, interessano gli affari tuoi, interessano gli affari tuoi privati più che le cose per le quali tu sei famosa. Quindi a un attore non interessa esattamente quale film sta per andare a girare, ma al fans interessa la tua vita privata, di vedere che mobili hai in casa, che quadri hai alla parete. Poi gli dici ma sta facendo quel film, ma che me ne frega, voglio sapere dove va domani. Ecco, grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi che poi ci vediamo tra una ventina di minuti e questi video sono poi condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia. Arrivederci e grazie.